Ragazzi, avete già deciso che cosa farete dopo la scuola? Io l'avvocato. Io il veterinario. E tu, Margherita? Ecco, non ci ho pensato bene. Qualcosa di creativo, qualcosa di interessante. Ah, ok. Devi pensarci ancora un po'. E tu, Federico? Io ci ho pensato. Io ho un sacco di idee, però è difficile scegliere. Per il momento ancora, non so se... Ah, ok, ok. Grazie a tutti. Step into your future. Hai un universo di opportunità. Scopri corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria Industriale.